Presidente, termina questa prima fase del campionato in maniera eccezionale, l'Agropoli a meno due dalla vetta, si aspettava finora un recupero così importante? Sì, oggi sapevamo che era una partita ostica e difficile, però avevo chiesto ai ragazzi questa vittoria, gli avevo chiesto anche perché volevamo fare una dedica particolare a Monica e Maurizio, che in questa settimana purtroppo ha colpito il grave lutto papà di Monica e quindi ci tenavamo naturalmente questo piccolissimo pensiero, naturalmente disoliva anche Maurizio per questa vittoria. È stata una vittoria sofferta, ce l'aspettavamo già, una partita ostica, primo tempo purtroppo sappiamo tutti com'è andata, quindi poi al secondo tempo è uscito fuori l'orgoglio della squadra, determinato, diciamo, ci ha facilitato naturalmente anche il calcio di rigore, non lo dobbiamo nascondere e quindi poi è stato tutto in discesa. Però se qualcosa ci è arrivata penso che è pure meritato perché è stato un cammino sin d'ora della squadra molto particolare, sappiamo quante difficoltà abbiamo dovuto correre in questo percorso, giocare di mercoledì e di domenica, di mercoledì e di domenica, rincorrere è molto difficile, il mister non ha potuto preparare la squadra con i suoi schemi, con il suo atteggiamento, il suo approccio, non sono le partite, perché ogni volta doveva rincorrere per poter giocare e non potersi allenare, diciamo che i pretendenti al campionato, il Cervinare, il Sant'Ommasi e il Sant'Amania che gli davano come vincenti, noi stiamo lì, quindi stiamo facendo una discreta figura, quindi se dovessimo recuperare quella partita con il Valdiano, anche quella sarà una partita sicuramente difficilissima visto che deve recuperare i punti, stare purtroppo in basso alla classifica e quindi troveremo anche lì il coltello fra i denti, quindi però non possiamo ricriminare niente, dobbiamo dire solo grazie, grazie ai ragazzi, grazie a questo cammino che hanno fatto sin d'ora e lo spieghiamo naturalmente che il 2019 ci possa continuare così e soprattutto a darci maggiore soddisfazione rispetto a questo anno che è stato un anno particolare visto che abbiamo perso il campionato con lo spareggio scorso anno, nonostante l'avessimo vinto sul campionato, cose ben noti a tutti, è inutile essere ripetitivi, retorici per poter rimenzionare naturalmente quello che ci è stato sottratto, questo organico sono convinto che ci darà belle soddisfazioni. Io naturalmente, consentitemi naturalmente, visto le circostanze del periodo, volevo fare gli auguri a tutta la società, a dire la verità, sono stato nominato a fare gli auguri a tutta la cittadinanza di Agropoli, a tutti i tifosi di Agropoli, all'amministrazione comunale, al signor Sindaco, all'amico e nonché sostenitore, grande sostenitore Franco Alfieri, il quale è sempre l'anima, tutti l'anima di questa squadra, di questa società, e un saluto in particolare, così come ho detto, anche a tutti coloro che è un augurio di un buon Natale, di un santo Natale, a tutti coloro che sono ricoverati verso le strutture ospedaliere, un accorato saluto e auguri da parte dell'OS Agropoli a tutti loro. E consentitemi una cosa, richiedo solo un piccolo regalo, se lo possiamo ottenere, scriviamo anche noi la letterina Babbo Natale come società, sperando che per il prossimo anno possiamo avere come dono una presenza maggiore di tifosi allo stadio per poter stare vicino e dare maggiore calore a questi ragazzi che ritengo che se lo possono meritare tutti. Questo è l'unico regale che possiamo chiedere ai cittadini e ai tifosi di Agropoli, aiutate a starci le vicine perché stanno ricambiando in un modo dignitoso con un marchio e con la storia di Agropoli, quasi centenaria, con dei risultati a dir poco eccezionali. Grazie, auguri a tutti e buone feste a tutti. Grazie. La vittoria è schiacciante, però un primo tempo in cui c'è stata un po' di paura da partire la sua squadra che non riusciva a scardinare la difesa del Faiano. Io ero preoccupato per questa partita perché venivamo da un periodo di gare ravvicinate con avversari tosti, gare che ci hanno portato via tante energie sia fisiche che mentali. Poi si mette una squadra con qualche difficoltà di risultato nell'ultimo periodo, con tre squalificati, qualche assenza, era facile cadere nella trappola della sottovalutazione dell'avversario, anche perché io ho visto le prestazioni del Faiano. È vero che venivano da tre sconfitte consecutive, ma erano state prestazioni sicuramente positive. Poi chiaramente quando gira storta, gira storta a dovere, quindi non erano riusciti a portare a casa nemmeno un punto. I ragazzi hanno interpretato bene la gara, hanno avuto pazienza. Nel primo tempo abbiamo costruito almeno due o tre occasioni nitide e non siamo stati bravi a sfruttarle. Questo avrebbe potuto portare un po' di fretta, un po' di preoccupazione, un po' di ansia. Invece sono rimasti pazienti, hanno continuato a sviluppare il gioco con calma e poi i frutti si sono visti, anche perché il Faiano è un po' calato in fase di pressing. Si è aperto qualche spazio in più e siamo stati bravi a finalizzare, andare in vantaggio e poi a chiuderla. L'impressione sarà pure con quella un pochino che all'inizio forse l'assenza di Masocco si è fatta sentire sul campo, cioè ovvero la squadra non riusciva a agire molto bene nei passaggi, soprattutto in fase offensiva, a parte poi i gol mancati da Capozzo nel primo tempo. Sì, Yuri sta facendo molto molto bene. In realtà c'è da dire anche che il campo oggi, forse dall'esterno sembra bello, ma oggi era più pesante, più scivoloso e più sconnesso del solito, perché domenica abbiamo affrontato una partita, ci siamo andati sopra e quindi anche questo ha rallentato un po' la manovra. Poi i spazi non ce n'erano tantissimi, quindi si faceva un po' fatica a trovare la verticalizzazione e il corridoio giusto. Peppe Di Lascio credo abbia fatto un'ottima partita, non giocata parecchio, sono contento della sua prestazione, come sono contento della prestazione di tutti i ragazzi, anche di chi è entrato. Ecco, il gol sul calcio di rigore è poi un agropoli sfumeggiante e la cosa importante è anche qualche calciatore tipo Doto che ha fatto un grandissimo gol e finalmente è uscito fuori con una grandissima prestazione, il nuovo Tandara. Quindi praticamente la sua squadra comunque ha in cascina tanta forza da mettere in campo nel momento giusto. Sì, Giandomenico Doto sa benissimo la stima e la fiducia che ha nei suoi confronti, nonostante venga da un periodo di pochissimo utilizzo, è stato schierato forse col Sant'Agnello, forse l'ultima gara, non ricordo. Lui ha delle grandissime potenzialità, si deve convincere e deve sfruttarle al massimo perché io lo ritengo un giocatore importante per questa squadra, per quanto riguarda Maddalene era l'acquisto che cercavamo, ha dato altra sostanza, sostanza in più e soluzioni in più a quello che era un reparto offensivo che era numericamente, parlo di punti centrali, numericamente scarso perché avevamo solo due elementi, Guido che tra l'altro è un centrocampista e Giordi. Tra l'altro Giordi ha attraversato un periodo difficile perché ha avuto degli infortuni e quindi ha perso un po' di condizioni. Oggi Guido non c'era, quindi era importante integrare numericamente quel reparto e siamo contentissimi di aver scelto Maddalene. Siamo contentissimi che lui sia venuto con tanto entusiasmo e con tanta voglia di mettere in mostra quelle che sono le sue grandi qualità. meno due al Cervinara che prima in classifica, un lavoro eccezionale del mister e dei giocatori, adesso si va in vacanza dopo questa vittoria, però l'agropo dello scorso anno non fu di buon aspicio la pausa perché poi ci fu il crollo famoso da 8 punti a più 8 per il Sorrento. Quindi adesso il mister comunque avrà il duro compito di mantenere saldo il gruppo dopo questa sosta natalizia. No, noi per questo non abbiamo voluto girare con 8 punti di vantaggio, a parte gli scherzi. L'abbiamo sempre detto, obiettivi di classifica non ne abbiamo. Abbiamo un percorso da fare, lo stiamo facendo bene ragazzi e la squadra sta crescendo, lo vedete anche voi. Questo percorso poi vedremo il 7 aprile o i primi di giugno a quale il risultato ci porterà. Però non ci dobbiamo far prendere, non ci dobbiamo concentrare sulla classifica, ma solo sul miglioramento di singolo e di squadra. Ultima domanda, fine giornata andata, qual è la squadra più che l'ha impensierita, la squadra che più le è piaciuta insomma? Ci sono tante squadre che abbiamo incontrato che ci hanno messo in difficoltà. Quindi sarebbe riduttivo fare il nome di una sola squadra, di un solo giocatore, di un solo allenatore. È un campionato bello, è un campionato dove si possono fare punti, si può fare punti su qualsiasi campo e li si possono perdere su tutti i campi. Quindi è un campionato molto avvincente e spero lo sia anche fino alla fine. E ne approfitto adesso per fare gli auguri di buon Natale, di buone feste a tutti, a tutti gli agropolesi, a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutti quelli che ci sostengono, a tutti quelli che non ci hanno seguito fino adesso sperando di vederli sugli spalti, a voi che ci seguite costantemente con grande affetto, a Carol, a tutti i miei collaboratori, a tutta la proprietà, c'è il presidente Puglisi, qua lo devo dire, dietro la telecamera, quindi se no può fare una multa. Davvero buone feste a tutti, buon Natale. Grazie, mister Ancaletti. Allora, mister, una sconfitta pesante, però al primo tempo la sua squadra è riuscita a mantenere il risultato, poi un rigore ha sbloccato la partita. Sì, è vero, noi lamentiamo qualche assenza, facciamo un po' di fatica nell'ultimo periodo a mettere una squadra più offensiva in campo. Oggi la nostra strategia era quella di cercare di chiudere tutti gli spazi a un'agropoli che comunque in casa fa sempre gioco e ha degli esterni capaci di cambiare la partita. Oggi così è stato, nel senso che Capozzoli, quando sembrava che un po' l'agropoli perdesse un po' più di fiducia perché vedeva che gli spazi erano tutti intesati, poi c'è stato questo calcio di rigore che purtroppo ha cambiato la partita. Eravamo stanchi, non siamo stati più in grado poi di incidere sulla partita in modo successivo. Anche perché poi tutti i ragazzini che hanno poca esperienza, che hanno giocato poco finora. Ripeto, il nostro obiettivo era quello di creare problemi. Abbiamo fatto densità davanti alla linea difensiva cercando di ripartire. In qualche occasione ci siamo riusciti perché Pellegrino un poco prima del gol dell'agropoli ha messo una buona palla dietro. I due ragazzini si sono quasi impauriti di una situazione del genere. Hanno lasciato il cono della porta libera, sono andati più sul primo palo e non abbiamo più avuto la forza per perereagire. L'agropoli c'è stata superiore oggi. Però si può dire che nonostante le tre defezioni importantissime per le espulsioni dopo l'arbitraggio di Sant'Omaso, comunque la sua squadra che ha l'obiettivo della salvezza comunque si è comportata abbastanza bene perché stava riuscendo nell'intento di bloccarla sul pareggio e cercare di fare qualcosina anche in più. Sì, questo è vero. Noi per prima cosa dobbiamo recuperare tutti gli effettivi a disposizione e poi cercare di giocarci in queste due partite la vita sia con il Santa Maria sia con il Cervinara dobbiamo cercare di dare una svolta a questo campionato altrimenti diventa per noi difficile. Ripeto, oggi abbiamo cercato di limitare i danni fino a un certo punto ci siamo riusciti e poi la Galopoli dopo che ha trovato il gol ci è stata superiore in tutti i sensi.